Per me prevenire è vivere, è per questo che sono qui oggi dalla Lilt per fare la visita al seno, la mammografia perché ho più di 40 anni e così mi sento sicura, mi sento felice, posso vivere tranquillamente. Quindi venite anche voi, fate una prenotazione, venite a fare una visita al seno. Fate vedere le tette, e lo dico io che comunque le ho fatte vedere tanto, ma forse non sempre per la motivazione giusta. Parlo da persona che ha perso una sorella per il cancro al seno e penso che la prevenzione è la cosa migliore. Prevenire. Meglio che curare, si dice no? Fatele vedere. Fatele vedere nel senso giusto, fatele vedere per la prevenzione contro il tumore al seno, fate come ho fatto io oggi la mammografia, fatele vedere. Oggi sono al centro Lilt per parlarvi della prevenzione e quanto sia importante a farle vedere. Io sto parlando ovviamente del seno, delle tette, ma farle vedere per prevenire, perché prevenire è sempre meglio che curare. Io ho mia sorella che è sopravvissuta del cancro al seno e grazie proprio alla prevenzione e la diagnosi precoce, lei è qua ancora oggi. Fatele vedere. Fatele vedere. ra Grazie a tutti.